Ciao a tutti, allora video ho l'abbigliamento, vi faccio vedere un po' di cose che ho comprato negli ultimi giorni, nell'ultimo periodo e non ve le farò vedere tutte perché sennò viene un video troppo lungo, alcune cose peraltro le ho lavate quindi non le ho a disposizione per cui vi faccio vedere una prima parte, poi lavo e sistemo delle cose che in questo momento appunto ho già usato e quindi sono a lavare e vi farò poi insomma a seguire tra gli altri video in programma anche questa seconda, diciamo, tranche di cose che ho preso. Allora vi volevo far vedere innanzitutto un cappottino, volevo un cappottino molto molto tagliato classico, il classico cappotto insomma con i revers, la linea dritta, un po' un cappotto di taglio maschile se non fosse che ha un tessuto, il tweed di colori molto particolari che peraltro mi è piaciuto tantissimo perché a volte guardiamo un po' le offerte, nel senso che si entra nel posto, si vedono magari degli stand con dei prezzi accattivanti e ovviamente siamo attratte, andiamo a vedere, magari compriamo un po' anche perché il capo è in offerta. Questo cappottino invece io l'ho visto e addirittura era apprezzato 69,90, quindi io stavo valutando di prenderlo e poi la commessa mi ha detto guarda che sto riprezzando lo stand e va a 39, quindi ero felicissima e l'ho preso al volo ed è questo cappottino, vedete il colore è questo, questa sorta di color senape, misto a un po' di panna, misto a un po' di arancio ed è un cappottino di linea proprio classica con un solo bottone, le taschine qua a filo arriva più o meno al ginocchio e scende appunto così dritto, vedete molto molto classico come cappottino, è molto pesante, il tweed bello grosso e direi che a 39,90 è veramente un ottimo affare, ho notato che Zara ma anche altri punti della catena Inditex, quindi Oisho e quindi Stradivarius, Pull&Bear, Bershka insomma stanno mettendo dei prezzi spot, ma ho notato che lo sta facendo soprattutto Zara a prezzo diciamo promo, quindi ci sono per esempio questi cappottini a 39, poi ho visto delle camicette a 17, delle gonne a 14, pantaloni idem a 14, con un cartello differente che appunto pubblicizza il prezzo, mi sembra una cosa carina perché insomma in tempi di crisi fa comodo, un'altra cosa che vi volevo far vedere che sempre riguarda, mettiamo questo qua, che riguarda un capospalla, è questo cappottino un cappottino diciamo molto leggero, che ho ricevuto da Lovely Wholesale, quindi questo io non l'ho acquistato, l'ho ricevuto, l'ho scelto diciamo tra le cose del loro sito ed era una cosa che cercavo da abbastanza tempo da abbinare appunto, come vedete, adesso ve lo faccio vedere sopra, questo gilet di pelo di Zara che io adoro appunto, come sapete questi gilet e queste cose in ecopelliccia, però quando non hanno la manica tendo a non sapere con cosa metterli perché è freddo e quando li mettiamo con un maglione, il maglione si è grosso, però essendo appunto traforato il freddo entra sempre, mentre volevo un qualcosa appunto di panno, come vedete questo è in parte in panno ma molto leggero, quindi un qualcosa che se lo mettete da solo, adesso a Milano vi congelate assolutamente, è un qualcosa che a Milano si può mettere massimo fino ad ottobre e poi alla fine così in ecopelle, alla fine della manica. Il capottino, chiamiamolo così, ma è tipo un sopravvitino di panno leggerissimo, vi faccio vedere, vedete, è proprio un panno super leggero, molto morbido, cosa che insomma non penso prenderò molti capi spalla da questi siti perché di regola a me non piacciono, vi avevo già fatto vedere quel capottino che è lì, che qualche volta appunto utilizzo ma non sono tra le cose che preferisco prendere da loro, secondo me in questi siti meglio prendere maglioncini o camicettine top, pezzi sopra, pezzi sotto no perché non mi sto a regolare con le taglie, magari qualche gonna, però capi spalla a mia esperienza no, ho voluto provare con questo e mi è andato bene, ve lo faccio vedere indossato così capite e secondo me è un qualcosa di molto utile per chi ha appunto questi gilet di pelo perché si presta. Allora vi faccio vedere cosa intendo, intanto sono taglie molto piccole quindi dovete prenderlo se siete piccoline come me perché sennò fate un po' fatica. Allora vi faccio vedere, come vedete è lungo, lungo fino sotto i fianchi e finisce con delle punte così, magari vi metto poi anche la foto. Come vedete io lo tengo così, è incrociato, ok, con la sua cintura che in questo momento io per praticità annoderò, ma che di quelle che vanno utilizzate vedete con il gancino così. Io adesso per praticità la tengo, la tengo annodata giusto per farvi vedere come veste, però ecco la metto in quel modo lì. Vedete, in questo modo ci metto sopra il gilet di pelo e mi viene sotto i fianchi, ve lo faccio vedere, vedete, viene così sotto i fianchi, qua scende con le due punte e mettendoci sopra il gilet di pelo riesco ad utilizzarlo senza essere troppo infagottata e senza però morire di freddo. Certo adesso il vestitino scozzese sotto non ci sta per niente, però ecco in questo modo riesco a mettere il gilet di pelo. Mi piace anche con questa cintura sopra a chiudere il tutto, sopra il gilet di pelo. Questo gilet fa veramente molto caldo, tiene molto caldo al corpo ma io freddo poi alle maniche, in questo modo ho risolto egregiamente, quindi di questo nel caso vi lascio il link perché ripeto io ho qualcosa di simile, qua a Milano non l'avevo trovata, infatti tendevo ad utilizzarlo questo con un cardigan color panna che io ho, molto, molto grosso, ecco sono tornata, molto grosso però il panna col marrone mi fa molto effetto boscaiolo, col nero mi chiude un po' meglio, mi piaceva di più. Poi venendo a sempre Zara vi faccio vedere altre due cosine, diciamo che lo shopping di oggi è anche abbastanza veloce, ho preso i pantaloni che volevo da l'anno scorso ma poi era scoppiata la moda, li avevano tutte quindi non si trovavano più e sono questi qua, quelli stile motociclista, li ho visti anche da pinkie, ma da pinkie costano 29,90, questi invece costano 24,90, quindi 5 euro in meno e sono quelli con le due taschine così con le cerniere e poi ne vengono fatti, viene appunto messo questo riporto qua, vedete, così particolare con l'altra zip, dietro hanno le tasche tipo jeans, il taglio è quello, sono molto molto aderenti e anche molto comodi perché è quell'ecopelle leggermente elasticizzata che quindi ti permette di fare i movimenti perché sennò sembri insalsicciata. Quindi questi sono i pantaloni che ho preso, i pantaloni di ecopelle, la fissa degli ultimi anni e poi che è l'ecopelle, dico perché un tempo era una cosa un po' introvabile, adesso ovunque ti giri ne abbiamo a bizzeffe e poi un altro paio di pantaloni acqua alta in casa che come sapete mi piacciono tantissimo, Zara li sta facendo in tante fantasie, ci sono anche i piede pool bianco e nero, questi qua che vi faccio vedere e io li ho presi i piede pool nei colori così un po' classici da inglesi diciamo, ecco qua con la cinturina che forse è l'unica cosa che non mi fa impazzire, infatti forse la leverò per certi look perché se il maglioncino è un po' lungo, quando la lego mi fa questo bozzo ad altezza vita il nodo appunto che faccio e sono appunto così larghi, ripeto larghi sotto, insomma i classici da mettere con la stringata che o piacciono o fanno schifo, a me piacciono come sapete a me piacciono tanto, molto molto molto. Poi, poi ho preso, non riesco a staccarmi da questa mania delle calze, ne ho preso due paia, le ho prese in una bancarella al mercato e mi piacciono tantissimo, lo stile è quello delle parigine, però io non è che le porto come parigine, le porto magari fuori dallo stivale, tra lo stivale e il ginocchio un po' arrotolate e sono di queste così a coste, vedete, le ho prese sia grigie che nere, peraltro, e secondo me il posto migliore dove comprare le calze a Milano è il mercato, sono andata un paio di volte, infatti in un mercato che c'è qua vicino a casa mia e ci sono veramente dei venditori di calze, queste le ho pagate tipo 2,50 euro e sono tutte quante in 100% lana, queste qua, e ho preso sia queste, sia nere e sia ho preso i collants di calzamaglia proprio di lana, che sono fuori tipo lana, quelli lì non sono 100% lana, ma saranno acrilico, non so, ma sono caldissime, che poi sono quelle che porto su in questo momento, vedete come sono spesse, eccole, ecco qua, vedete, sono fuori lana, dentro tipo pile, c'è una roba, mettere queste o mettere un pantalone tengono anche più caldo, quindi metti i vestitini e sei più calda di quando hai un pantalone, perché sono veramente super spesse, non so, saranno 300 denari credo, sì 300, mi sembra che ci sia scritto sulla cosina, e ne ho prese di due tipi, un tipo con il piede, un altro tipo senza il piede, perché quando uso determinati tipi di scarpe come gli stivaletti, mi piace avere proprio sul piede il calzino di cotone, quello filo di cotone proprio sottile, e sopra metto un calzino di lana, ma a contatto con la pelle mi piace avere il calzino di cotone, e poi comunque col collant devo lavare tutti i giorni i collant, perché ovviamente la calza va, insomma il piede, detto proprio papale papale, suda e puzza più del retto della gamba, quindi comunque tutti i giorni cambi i calzini, mentre un leggings non lo cambi tutti i giorni, lo puoi anche usare due o tre giorni, ovviamente, poi lo metti sì a lavare, ma due o tre volte, un leggings lo puoi tranquillamente usare, quindi questi qua che sono praticamente leggings senza il piede, io ovviamente se li devo portare due o tre giorni magari a lavoro perché sono vestita di nero, mi vanno benissimo, se invece è un collant con il piede, li devo mettere a lavare tutti i giorni, perché il piede ovviamente a me, perlomeno, non che puzzi, però mi sa di non pulito portarle più di un giorno, vabbè che bei discorsi, e basta ragazze, quindi questo, diciamo, haul piccino di Zara e con quest'altra cosina che mi è stata inviata finisce qua, ma ripeto, ho un bel po' di cose da farvi vedere, soltanto che, ripeto, sono a lavare e ho un sacco di video da fare, ma in questi giorni sto lavorando tanto, ma cercherò di firmarli tutti, ci sono, c'è il make up del mese di novembre, ci sono le 6 ore in maniera di novembre, i prodotti finiti, ho questo video haul, un video haul di cose cosmetiche e make up, poi che cos'altro, un video haul su Lush perché ci sono tante cose che devo far vedere, poi cos'altro, insomma, un bel po' di video in arrivo, spero a Natale, sotto Natale, nei giorni di festa, di tenervi un po' compagnia come avevo fatto l'anno scorso che avevo quasi fatto un video al giorno, quest'anno lavorerò un po' di più, non sarà proprio un video al giorno, ma farò del mio meglio, e intanto vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!